Il primo volume, qualcuno si comincia a vedere nel secondo, sono molto più presenti nel terzo. Ho avuto anche il piacere nei due giorni scorsi di vedere il quarto volume già in fase di lavorazione. E veniamo, dopo due volumi di grandi pubblicati e il terzo che state vedendo, all'ultimo capolavoro dell'anno scorso. Mary Tabot, la moglie di Brian, dopo alcun 25 anni di attività dell'insegnamento nel campo universitario, raggiunta la visione, esprime il desiderio di scrivere una graphic novel. E questo desiderio diventa realtà con il volume che state vedendo, Data of Air, Father is, che è stato pubblicato in Inghilterra da John Van Keele, che ha vinto un prestigioso premio nel posto appunto del 2012, 29 gennaio scorso, e che è assolutamente, senza non la togliere ai precedenti lavori di Brian, una delle graphic novel più interessanti, più belle che io abbia visto negli ultimi anni. Ora saranno loro stessi a illustrarvi meglio questa graphic novel, chi vuole fare domande si prevede e iniziamo quindi il nostro incontro. Un saluto a Brian Tabot e a Mary Tabot.